Come sono i compagni? Non solo ci sarà già facilmente l'espressione visiva registrata ma anche la necessità e l'utilità di trasportare in forma cartacea per quelli del Novecento come me che hanno bisogno anche di avere la carta sotto gli occhi per riflettere. E poi in particolare ringrazio il compagno Andreu Col che ha affrontato questo viaggio, sicuramente ha dei compiti importanti là. In questo momento in Catalogna si è in uno dei punti crociali della crisi non solo dello Stato spagnolo ma potenzialmente anche dell'Europa e quindi fin da ora credo che dobbiamo continuare a costruire delle mobilizzazioni di solidarietà. provando anche a spiegare una questione che non è così facile di comprensione così immediata anche perché noi abbiamo oltretutto in Lombardia e in Veneto un fenomeno che non c'entra niente con quello che ha caratterizze completamente diverse che noi contrastiamo che però non rende facile anche spiegare quello che avviene nella Catalogna e il diritto all'autodeterminazione del popolo catalano. Allora, credo che riflettendo a partire dal libro di Ernest Mandel che consiglierei come tutti gli altri libri, questo è il vantaggio che è più breve, si legge più facilmente, le capacità espositive di Ernest Mandel sono eccezionali, lo potete vedere e che esattamente fa il lavoro che penso abbiamo fatto un po' qui quest'oggi, proverò ancora a farlo io avanti, di provare a raggiungere quattro obiettivi o quattro elementi di discussione. Il primo è la difesa della rivoluzione. La rivoluzione è bella e buona ed è giusto farlo, non solo è giusto farlo, ma è necessario farlo per il futuro dell'umanità. Era necessario cent'anni fa e più che mai necessario adesso in cui si coniuga la crisi del capitalismo dirompente, si coniuga a questo la crisi ecologica e ambientale che è non meno di ripente, è molto più ravvicinata di quanto probabilmente possiamo pensare, è una gigantesca crisi dei migranti che è un fatto che noi dobbiamo considerare ormai definitivo, sarà caratteristico. Non possiamo non affrontare questo in un programma di trasformazione sociale e dentro questo quadro complessivo evidentemente la crisi della democrazia, perché della stessa democrazia borghese. Tutti i processi anche dell'Europa, che bene o male è stato anche per la forza del movimento dei lavoratori uno dei punti che ha imposto certe forme particolarmente avanzate di democrazia borghese, oggi sono costantemente erose. Per restare nel nostro possiamo vedere come semplicemente la Costituzione, le leggi elettorali, eccetera, sono semplicemente fatte, rifatte, buttate, eccetera, referendum come quello sull'acqua che non è neanche applicato. Vinci della ripubblicazione e se ne fregano letteralmente tutti, quindi non vengono rispettate anche le norme più elementari. Quindi questo è un po' il lavoro che, diciamo, dobbiamo provare a fare anche l'oggi, quindi una riflessione anche sulla rivoluzione oggi. Allora io parto però da lontano, parto da una situazione che più volte faccio, che in fondo esprime questa necessità di analisi della rivoluzione. Quanto scrive Carlo Marx nel 18 Brumaio di Luigi Bonaparte, siamo all'inizio del 1850, dopo il fallimento dei processi rivoluzionari del 48-49, l'avvento in Francia del piccolo Bonaparte, perché Luigi Bonaparte è il piccolo Bonaparte rispetto a Napoleone Bonaparte. Scrive Marx, dice Le rivoluzioni borghesi, come quelle del secolo XVIII, passano tempestosamente di successo in successo. I loro effetti drammatici si sorpassano l'un l'altro. Gli uomini e le cose sembrano illuminati da fuochi di Bengala. L'estasi è lo stato d'animo d'ogni giorno, ma hanno una vita effimera. Presto raggiungono il punto culminante, e allora una lunga nausea si impadronisce della società, prima che essa possa rendersi freddamente ragione dei risultati del suo periodo di febbre e di tempesta. Poi aggiunge Marx. Le rivoluzioni proletarie, invece, quelle del secolo XIX, criticano continuamente se stesse, interrompono ad ogni stanza il loro proprio corso, ritornano su ciò che già sembrava cosa compiuta per ricominciare da capo, si fanno beffe in modo spietato e senza riguardi delle mezze misure, delle debolezze e delle miserie dei loro primi tentativi. Sembra che abbattano il loro avversario solo perché questo attinga dalla terra nuove forze e si levi di nuovo più formidabile di fronte ad esse. Si ritraggono continuamente, spaventato dall'infinita immensità dei loro propri scopi, sino a che si crea la situazione in cui è resa impossibile ogni ritorno indietro e le circostanze stesse gridano. Ic rodus, ic salta. Qui è la rosa e qui devi ballare. Questo lo scrive la bellezza di tantissimi, più di 150 anni fa. Fatemi fare il calcolo, sì, 150 anni fa. Però se voi pensate un attimo, non solo noi abbiamo da riflettere sulle rivoluzioni fallite, i tentativi di assalto al cielo fallite. I bolshevichi riflettono sulla sconfitta della Comune di Parigi. Per loro è dominante due cose i bolshevichi che avevano in mente. Uno è l'esempio della Comune di Parigi e quindi per questo Antonio ha ricordato come Lenin esulti quando riesce la rivoluzione russa a vivere un giorno in più dei tre mesi della Comune di Parigi. Ma l'altro terrore che avevano era fare una rivoluzione e poi avevano la paura del termine... cioè avevano in mente i Giacobini, la fine dei Giacobini e il termine oro borghese. E quindi loro sapevano che la rivoluzione poteva essere sottoposta al termine oro borghese, cioè alla restaurazione. E loro tragicamente non si resero conto che quel termine oro non arrivò da fuori, in realtà era inerente alla società stessa che loro nell'isolamento provavano a costruire, come poi potrà essere. Quindi noi ci troviamo adesso anche di fronte a una esperienza di rivoluzione vittoriosa alla fin fine, dopo un secolo, fallita, in cui è stato restaurato il capitalismo, in cui anzi quelle forze borghesi che diceva Marx si rossollevano da terra ancora più potenti di prima sono effettivamente più potenti di prima. Il capitalismo oggi è pieno di contraddizioni di fondo, ma nello stesso tempo ha sconfitto le classi lavoratrici in tantissimi paesi, si erge come l'unica possibilità della storia, dice non potete fare la rivoluzione e se voi cercate, dice ai giovani, se cercate di fare la rivoluzione attenzione giovani, uno avrete due cose, delle guerre civili terrificanti, una violenza, e se per caso riusciste a vincere in realtà vi attende la dittatura. La dittatura, questo è il messaggio che viene lanciato, quindi non provateci, state calmi, restate dove siete al vostro posto. E quindi questo, tanto più noi quindi abbiamo la necessità di fare quelle cose là, di fare quel che ho detto prima, difendere la rivoluzione, due, capire che cosa è successo nell'Unione Sovietica, perché non possiamo pensare che il futuro possa stare in quella caserma terrificante che erano gli anni 30 nell'URSS, e naturalmente riprovare a riflettere su tutto questo per avere un nuovo, uso questo termine, paradigma rivoluzionario, cioè in qualche modo riaprire la strada a un processo rivoluzionario, capire cosa va corretto. Noi non prendiamo semplicemente le vecchie teorizzazioni, le vecchie formule, le partiamo dalle acquisizioni avvenute, cioè dall'esperienza storica concreta della lotta di classe e dall'analisi di fenomeni che ci sono prodotti per aggiustare il tiro, chiamiamolo così, per riflettere su questo e capire che situazioni profondamente diverse, perché è chiaro che oggi abbiamo in una situazione profondamente diversa di quella di 100 anni fa nella Russia, per provare a ricostruire esattamente quello che userò questo termine, la rivoluzione permanente. Perché uso questo termine della rivoluzione permanente? Perché, e questa è l'ultima citazione di Marx e di Engels che vi faccio, indirizzando alla Lega dei Comuni, al Comitato, dunque, indirizzo del Comitato Centrale della Lega dei Comunisti, siamo nel marzo del 1850, dice dicono mentre i piccoli borghesi democratici vogliono portare al più presto possibile la rivoluzione alla conclusione, ma pensate ai menscevichi che sono stati detti, cioè fermare la rivoluzione a febbraio, allo stadio della democrazia di febbraio, e realizzando tutto il più le rivendicazioni di qui sopra, è nostro interesse dei comunisti, e il nostro compito è rendere permanente la rivoluzione, sino a che tutte le classi più o meno possidenti non siano scacciate dal potere, sino a che il proletariato non abbia conquistato il potere dello Stato, sino a che l'associazione dei proletari, non solo in un paese, ma in tutti i paesi dominanti del mondo, si sia sviluppato al punto che venga meno la concorrenza tra i proletari di questi paesi, e sino a che almeno le forze produttive decisive non siano concentrate nelle mani dei proletari 1850. Diciamo, vedete, questa è una formula ma indica che il compito del proletariato è un compito che ha non diversi stati, ma è un processo permanente della conquista sia della democrazia, delle libertà democratiche, di abbattere l'assolutismo, di abbassere i domini coloniali, per rimanere qui, in una trascrescenza della rivoluzione fino alla vittoria che non è solo nazionale, ma che è anche internazionale, senza la quale non è possibile costruire il socialismo. Se voi pensate, questo programma qui è il programma non solo di Trotsky nel bilancio e prospettive nello scritto successivo all'esperienza 1905, ma delle tesi di aprile, esattamente e questa è la base politica strategica della convergenza e voi vedrete, ma lo citerò dopo, che la Rosa, Rosa Luxemburg, nello suo scritto sulla rivoluzione d'ottobre, scrive anche esattamente queste parole, cioè configura il suo pensiero all'interno di questa strategia in cui, per anticipare, dice, i bolshevici hanno cominciato la strada, ma loro non potevano da soli portare avanti. il problema è che quella strada deve continuare, doveva già essere intrapresa anche dal proletariato tedesco e dal proletariato occidentale, non l'ha ancora fatto e non possiamo pensare che loro da soli costruiscono il socialismo, non è possibile, siamo noi che siamo colpevoli di non aver, loro hanno il merito di aver cominciato, ma noi dobbiamo, siamo decisivi per poter portare in avanti quella rivoluzione. quindi, ecco perché usavo il termine la rivoluzione permanente, perché è un processo che interviene sui vari stadi di sviluppo e di trasformazione della società, ma anche nella sua dimensione internazionale e io aggiungo anche nella sua dimensione di democrazia in un processo di transizione in cui il capitalismo sia stato abbattuto. Allora, io credo che, quindi, diciamo, la prima cosa che noi dobbiamo fare è la battaglia per difendere la rivoluzione, perché la borghesia ha paura della D.D., perché somatizza così tanto la questione dell'ottobre, come ha somatizzato tanto la rivoluzione francese, perché le rivoluzioni sono l'espressione, veniva già detto questa mattina, in cui le masse irrompono nella storia. Di solito sono i re, i ministri, insomma, le forze dominanti della classe dominante. C'è dei momenti in cui le contraddizioni sono così forti in cui, ed è tutta la storia dell'umanità, anche perché l'umanità non accetta, cioè accetta normalmente lo sfruttamento, l'oppressione, la violenza delle classi dominanti, ma non è che proprio ne sia particolarmente felice di questo tipo di situazione. Ci infondo un desiderio di reagire a questo tipo di cosa. Non è poi così un caso strano che in tutte le culture, in tutte le società ci sia come il ricordo di una società dell'oro antica in cui non c'era lo sfruttamento. E tutta la storia benunità è una storia di ribellioni, di resistenze, di battaglie, di giaccherie, dalla Cina attraverso un po' tutte quante le società. se Fukuyama, dico giusto, l'autore e gli altri hanno pensato o tutti abbiano pensato che è possibile far tacere questo spirito libertario dell'umanità che esplode, certamente, che di solito viene represso, ebbene si sbagliano. C'è un editoriale, ma adesso l'ho lasciato lì, un articolo sul Sole 24 ore che dice ma come è stata possibile questa follia del comunismo? passerà la storia come una cosa un momento in cui diciamo probabilmente hanno bevuto troppo, diciamo c'è stata una droga particolarmente pesante aggiungo io e tu dici ma come è possibile che tu sia così ignorante non è ignorante naturalmente perché vuole lanciare un messaggio a non capire che la storia è una unità che le persone l'umanità non si rassegna totalmente all'oppressione all'ingiustizia sociale e che l'idea del comunismo è vecchia quanto il mondo ma non ha studiato cioè sembra che non conosca le varie formulazioni utopiche che ci sono state nel corso di sé il problema naturalmente la sua paura e le paure sono le masse in movimento e che nonostante tutte le sconfitte gli arretramenti e tutto quanto non è che il mondo non abbia settori di massa in movimento che hanno compreso il fatto che è stato negato anche ma i movimenti di massa rivoluzionari più vicini a noi sono avvenuti nel nord Africa sono avvenuti nei paesi arabi soltanto sei anni fa sono stati sconfitti falliti repressi dalla combinazione tra le dittature legate all'occidente e le forze estremiste reazionari e barbare dell'islamismo reazionario sono stati sconfitte ma le mobilitazioni e le organizzazioni che hanno fatto cadere Mubarak da parte delle classi lavoratrici gli scioperi tutto questo ci sono stati sei anni fa quello in altri paesi la sinistra italiana ha guardato da un'altra parte discute di rivoluzioni questo è un problema che porrò anche al compagno Ferrero domani lo porrò domani come naturalmente va posto un'altra cosa dice ma adesso non ci sono cioè siamo lontani da rivoluzioni in Europa ma attenzione anche oggi un scambio di battute in Grecia non c'era una situazione rivoluzionaria certo in Grecia non c'era ancora una situazione rivoluzionaria ma se accettavi il memorandum e lo gestisci oppure invece di accettarlo rispetti il voto che hai avuto fai appello alle ratture fai appello alla mobilitazione fai un appello internazionale oggi se fosse avvenuto questo in Europa non discuteremmo come dice il compagno Ferrero semplicemente diciamo se cacciare i migranti oppure no discuteremmo invece di uno scontro esattamente tra le potenze capitaliste tra la troica i poteri dell'unione sovietica e un popolo che ha provato a ribellarsi con possibilità di influenze sul resto dell'Europa quel che non si riescono a capire esattamente i moderati che a seconda di detenze che ci sono dei crocevia nella storia dei passaggi in cui se fai un'operazione determini una situazione certo io ho sempre detto rompere per Sirizia allora e non rispettare e fare appello alle masse nazionalizzare la banca le banche voleva dire entrare in terra incognita in un passaggio non più conosciuto c'era tutto il rischio possibile ma i bolshevichi l'hanno fatto erano più forti c'era già l'organizzazione delle masse tutta una serie di cose mi risponderebbe il compagno Ferrero ma rispondo io certo non c'era tutte le condizioni non c'era la situazione rivoluzionaria non c'era i soviet ma una certa importanza dal punto di vista delle mobilizzazioni delle masse se tu governo di sinistra che hai avuto il sostegno di quelle masse stesse che ti hanno dato un appoggio formidabile provi a rompere e a esprimere i loro interessi i loro bisogni oppure se rispetti il terzo memorandum cambia completamente il quadro cambia il quadro della demoralità poi puoi essere sconfitto tante rivoluzioni sono essere sconfitte ma la peggiore sconfitte sono quelle che si hanno senza lottare questo diciamo è assolutamente sicuro è assolutamente e quindi questo è il nostro primo compito difendere la rivoluzione e nello stesso tempo pensare che sia possibile che sia che è ancora all'ordine del giorno non iscritto nei libri ma è scritto nelle contraddizioni profonde è iscritto nell'azione di partiti politici organizzazioni sociali che provano ad aiutare le masse popolari le classi lavoratrici a conquistare la propria indipendenza a capire la realtà a ritornare protagoniste non passive in ginocchio ma in qualche modo attive compito terribilmente grave perché tante tante forze lavorano esattamente per l'opposto e soprattutto tante forze lavorano per impedire la visione del contrasto tra quelli da basso e contro quelli dall'alto cioè tra le classi proletarie e le classi dominanti e invece a contrapporre diciamo a spingere la sofferenza le difficoltà la paura del futuro nello scontro questo sì come diceva Ferrero di vedere il nemico nei migranti in quello che sta più in basso compito estremamente difficile ma io credo che diciamo così un pizzico di ottimismo un pizzico di volontà in questo caso che magari possiamo anche farcelo se fare lo dobbiamo avere e secondo passaggio che è il passaggio di capire che cosa è successo laggiù perché è chiaro che non possiamo essere contenti di quel che è successo sia ben chiaro quel che è successo laggiù ovvero sia in Russia è lo sviluppo della rivoluzione è stato prima tutto determinato dall'isolamento di quella rivoluzione c'è dei passaggi non so interrompo la logica il discorso se mi metto a leggere ma c'è dei passaggi assolutamente meravigliosi anche in Rosa Luxemburg rispetto a questo che dice noi li abbiamo lasciati soli la colpa è della socialdemocrazia tedesca la colpa è l'insufficienza di coscienza del proletariato dice anche un'altra cosa i nostri socialdemocratici la pensano esattamente come il comando tedesco imperiale che diciamo attraverso la guerra che hanno fatto caduto lo zarismo e col febbraio dovevano fermarsi lì invece no bisognava andare avanti assolutamente avanti e qui diciamo mi permette anche di introdurre un altro elemento della polemica di questi perché in fondo se voi leggete i giornali più o meno parlano bene della rivoluzione di febbraio e male di quella di ottobre perché loro dicono nelle prime c'erano le masse nelle seconde no è già stato dimostrato che non è così ma la ragione è esattamente un'altra perché in tutte le rivoluzioni la carne da cannone l'hanno sempre fatto le masse popolari mica qualcun altro e quindi va bene che la carne del cannone le donne che scendono il 25 di marzo si dico giusto di febbraio 25 di febbraio in sciopero fanno in tre giorni di sciopero che poi si allarga fatto cadere lo zar dopodiché c'è il governo dei cadetti c'è il governo della borghesia ma adesso state al vostro posto ci pensiamo noi cioè quella borghesia che è stata incapace di buttare via l'aristocrazia le masse gli danno cioè le masse costruiscono le condizioni del loro potere e pensano che così debba finire così debba essere così loro pensano che debba restare così e anche il governo anche quando passa dai cadetti cioè dai rappresentanti della borghesia stessa passa ai mencevichi cioè ai socialdemocratici attraverso prima il governo sì col governo poi di Kerensky anche loro sono completamente legati alla borghesia perché da qualche parte c'è scritto che quella è la rivoluzione democratica borghese e lì si devono fermare ma non ci si può fermare lì e su questo invece io proprio ve lo voglio leggere un passo della di Rosa perché diciamo così chissà se lo troverò mai perché le ho sottolineato tutto perché lo voglio dire con le parole di Rosa non con le parole di Trotsky o di altri perché di solito Rosa è preso come come Rosa tra l'altro scrive solo perché poi verrò alle critiche di Rosa in un'altra parte la loro insurrezione d'ottobre non è stata soltanto l'effettiva salvezza per la rivoluzione russa ma anche la salvezza dell'onore del socialismo internazionale parole forti e aggiunge addirittura aggiunge Rosa poi ancora aggiunge tutto ciò che accade in Russia è una catena inevitabile di cause ed effetti i cui punti di partenza e le chiavi di volta sono le carenze del proletariato tedesco e l'occupazione della Russia da parte dell'imperialismo tedesco sarebbe chiedere a Lenin compagno opera sovrumana se si esigesse che in queste condizioni si creasse quasi per incanto la miglior democrazia il modello di dittatura del proletariato perfetto con il loro atteggiamento decisamente rivoluzionario con la loro esemplare energie e la loro incrollabile fedeltà al socialismo internazionale essi hanno veramente fatto quanto era da farsi in circostanze così diabolicamente difficili il poricolo dice Rosa giustamente comincia nel momento in cui facendo di necessità virtù e si fissano teoricamente in tutti i dettagli della tattica a cui sono stati costretti ma su questo torno tra poco e concludo addirittura così resta loro immortale merito storico di aver marciato alla testa del proletariato internazionale conquistando il potere politico ponendo praticamente il problema della realizzazione del socialismo come di aver dato un potente impulso alla resa dei conti tra capitale e lavoro nel mondo in Russia il problema poteva soltanto essere posto non poteva essere risolto in Russia ed è questo il senso che l'avvenire appartiene dappertutto al bolshevismo ma poi dopo non citerò più la rosa però ve ne cito ancora esattamente un pezzo perché indica come non potevano fermarsi a mezza strada dovevano andare fino in fondo che è esattamente il concetto e dice la superficialità della concezione liberale della storia non aveva naturalmente bisogno di capire che senza il colpo di forza degli estremisti giacobini si riferisce ancora alla rivoluzione francese anche le prime timide mezze conquiste della fase girondina la prima fase della rivoluzione francese sarebbero stato presto sepolte sotto le materie della rivoluzione e che la vera alternativa alla dittatura giacobina come la poneva il ferreo corso del sviluppo storico del 1793 non era la democrazia moderata ma la restaurazione dei borboni e aggiunge il fatto è che Laura è a via di mezzo dei socialdemocratici non si può mantenere in nessuna rivoluzione la sua legge naturale richiede una rapida decisione o la locomotiva viene spinta a tutto vapore alla sommità dell'erta storica oppure per la sua stessa forza di gravità riprecipita verso il punto di partenza trascinando nella sua caduta senza speranza coloro che a metà strada volevano trattenerla con le loro debole forze lo traduco per il 1917 o la rivoluzione proletaria di ottobre o Cornilo che instaura la prima dittatura fascista in Europa questa è la realtà della cosa terzium non datur e questa è la cosa che diciamo nessuno vuole riconoscere la lotta di classe è fatta così e i bolshevichi erano perfettamente consapevoli di questo consapevoli di questo perché avevano la comune di Parigi davanti agli occhi avevano le fucilazioni 30.000 al muro dei federati sapevano che non era solo una questione di vita o di morte per loro ma era una questione di vita o di morte per la classe lavoratrice e qui scatta però l'altro secondo fetentissimo meccanismo quando io vi ho detto prima dicevo attenzione giovani non fate la rivoluzione perché se provate a fare la rivoluzione non sapete cosa succede cioè non sapete cosa faremo noi purtroppo la borghesia io ho scherzato un po' dappertutto dove ho fatto le presentazioni nel libro non è di chi dice eh sì siamo pieni di contraddizioni c'è la c'è sì non è bello sfruttare così in giro per il mondo milioni di lavoratori centinaia sì effettivamente diciamo abbiamo un problema di sovrapproduzione come diceva giustamente il compagno Ferrero va bene effettivamente il nostro compito storico è esaurito prego governate voi fate voi no non fa così nessuna classe dominante si è mai comportata così per questo se n'è andata soltanto purtroppo con la forza per usare l'espressione di lotta continua con la lotta e anche con la con la violenza con la rivoluzione perché evidentemente la rivoluzione è violenta perché però fa un'altra cosa l'ha fatto in Vietnam l'ha fatto in Nicaragua l'ha fatto in Russia quando anche la partita è persa loro continuano cercano di minare le condizioni stesse su cui è possibile costruire una nuova società hanno fatto terra bruciata in Vietnam in Nicaragua avevano perso completamente hanno condotto la guerra di bassa intensità e alla fine l'hanno vinta e hanno restaurato pienamente il dominio della classe borghese e in Unione Sovietica non mi ricordavo se fossero 21 gli eserciti intervenuti guardate che è pure andata bene è andata bene per due ragioni perché nonostante tutto le potenze europee erano indebolite dalla guerra non hanno potuto intervenire militarmente come forse avrebbero voluto e perché c'è stato non la capacità delle rivoluzioni proletarie in Europa di bloccare questo ma almeno una mobilitazione sociale solidale che qui anche ha ricordato il compagno Sovrenino diciamo in Italia ma in altri paesi che ha reso più difficile l'intervento ma sono una guerra civile di due anni e mezzo abbiamo anche i numeri due milioni e mezzo di morti vi rendete conto che prezzo hanno pagato per vincere era necessario vincere se no sarebbe stato ma è chiaro che la società alla fine della guerra civile è esangue e la ricostruzione è terrificante e in più aggiungo una cosa che io ho un po' sviluppato anche nella mia introduzione e non è che se tu fai la guerra prendi l'abitudine della guerra entra nella psicologia sapete che diciamo così in guerra dopo un po' non piangi più i tuoi compagni che muoiono non puoi è la vita cioè è la vita e la morte però è chiaro che loro escono dalla guerra io credo che i bolshevichi siano stati presi anche da una specie di vertigine di aver vinto in quella circostanza e di aver vinto con tutti i metodi necessari la Luxemburg ha dei passaggi anche quella cosa lì dice era giusto utilizzare tutti i mezzi repressivi necessari per fare questo e siamo soltanto pensati la Luxemburg scrive alla fine del 18 alla fine del 18 dal carcere oltretutto non ha neanche tutti gli elementi però è chiaro che una società è signata nel suo sviluppo successivo da questo quindi la borghesia è particolarmente effettente anche quando perde fa di tutto per rendere impossibile o difficilissimo la costruzione di una nuova società perché in questo modo può avere la possibilità che di fronte a quelle difficoltà possa ritornare alla carica per costruire una contro-rivoluzione successivamente esattamente come ha fatto in Nicarà o comunque di deviare dal suo percorso profondamente la rivoluzione stessa quindi e quindi cosa succede in quegli anni qui la faccio corta perché no non la faccio corta non è da fare corta affronti il problema della contro-rivoluzione in il compagno Bertinotti che adesso tutti parlano male del compagno Bertinotti mi pare giusto parlare male del compagno Bertinotti per tante ragioni però diciamo è anche vero che certe volte capiva qualcosa in più degli altri ecco diciamo così questa è la cosa e mi dispiace dirlo tanto per diciamo poi dopo se ha vinto il congresso facilmente il congresso di Venezia in cui c'è stato il volto a destra è anche perché la sinistra di Bertinotti rappresentata in particolare dal compagno Ferrero ha dato una mano formidabile a far sì che ci fosse la credibilità di quella proposta lì ma il compagno Bertinotti usava la formula orrori ed errori lo usa sovente ancora rifondazione adesso lo usano tanto e no è sbagliata questa formula orrori ed errori dice hanno sbagliato hanno fatto dell'esagerazione no il problema è un'altra cosa è che in Unione Sovietica c'è stata una controrivoluzione sociale cioè un processo che non è come la rivoluzione che la possiamo datare ottobre 17 è un processo sociale più profondo che non è difficile anche da datare non ha una data specifica repressione violenze errori ne sono state fatte non solo degli anni cioè già negli anni 20 e 21 ci torno tra poco una serie di cose profondamente sbagliate e pericolose anche negli anni 20 ma negli anni 30 c'è un salto di qualità anche se molti storici compresi in particolare Moshe Levin che è uno dei maggiori studiosi ormai datano in tanto in tanti il fatto che la partita era giocata nel 1924 già se non nel 23 Antonio mi pare che stamattina l'ha datata al 23 però la società sovietica i meccanismi di dominio della società sovietica gli spazi politici sociali eccetera degli anni 20 non sono gli stessi degli anni 30 è un'altra cosa è un altro mondo che fa questa questa cosa qui e lì è proprio una vera e profonda reazione sociale in cui effettivamente il partito deve essere distrutto questa è la prima la cosa e mi pare che trovo scusa a queste persone non è Stalin che ha scelto la burocrazia ovviamente l'ha affoggiata ma è l'apparato statale che ha scelto Stalin come suo legittimo rappresentante come colui che meglio di tutti rappresentava le cose e attenzione c'è anche un elemento psicologico delle masse pensate dopo quella guerra civile se ti dicono la nostra salvezza è nella rivoluzione in occidente che non arriva perché fallisce la rivoluzione nel 23 in in spagna e poco dopo fallisce la rivoluzione in cina o chi dice va bene siamo soli ma costruiamo il socialismo da solo calo hai una società spossata ha un ha una ha una trazione ideologica anche questo tipo di cosa qui se poi si combina con la possibilità di carriera perché non sono più i rivoluzionari che aderiscono al partito oggi il partito a quel punto è anche un elemento di ascesa sociale di consolidamento sociale di carriera vi rendete conto capite ora probabilmente diciamo così gli anni 30 però sono ancora un'altra cosa gli anni 30 allora vediamo un po' adesso vi darò dei dati che dovete saperli perché diciamo così delle cose che sono troppo cioè lo dobbiamo sapere perché c'è ancora qualcuno che dice che globalmente cioè fa quest'operazione quella rivoluzione lì ha permesso in giro per il mondo le rivoluzioni anticoloniali le mobilitazioni eccetera ok è vero la Russia è stato un punto di riferimento tu giustamente è vero assolutamente è vero quello che dici ma oggi quella società lì quella che era una caserma era una caserma è anche l'elemento di repulsione per milioni di persone dell'argomento principe della della borghesia di dire non vorrete mica avere quella società lì eh questa è la cosa terribile è già difficile ma in queste condizioni è ancora più difficile quindi le organizzazioni politiche che dicono globalmente è positiva la cosa sì è vero c'è stata la repression gli orrori e gli errori però oppure c'è anche quelli più raffinati Osban nel secolo breve quelli che dicono sostanzialmente non si poteva fare diversamente è così le cose sono andate così storicamente sono andate così era l'unica soluzione possibile ora è legittimo che gli storici facciano la storia e la raccontano così ma da questo punto di vista Daniel Ben Said lo scrive in un libretto i politici cioè quelli militanti politici non i politici borghieri i militanti politici e rivoluzionari esattamente introducono un'altra cosa i bivi nella storia e che non c'è solo un'alternativa aver fatto certe cose non aver determini un'altra la vittoria della rivoluzione nel 23 in Germania cambiava le carte in tavolo non sappiamo ma cambiava assolutamente le 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 in tavolo in realtà all'inizio del soprattutto tra il 33 e il 77 dice spiega le purghe Moshe Levin qual è la ragione delle purghe che pure ci sono state già anche prima ma non della stessa ampiezza era necessario formare forgiare un nuovo alibi storico senza alcun dubbio la necessità di traduco dal francese di forgiare un nuovo alibi storico è senza dubbio una delle ragioni che ha spinto Stalin nel 37 a lanciare le purghe contro i quadri del partito un progetto che meditava da tempo era per lui necessario sradicare un periodo della storia quello degli anni eroici di sbarazzarsi di tutti quelli che ne erano stati testimoni e conoscevano il ruolo di ciascuno dei suoi attori ma questo scenario lungamente maturato e per una vendetta calcolata non è tuttavia non è stato condotto tuttavia completamente a sangue e freddo in certi momenti si è sviluppato in uno stato di estrema tensione però prima di darvi ancora i dati della repressione vi dico anche quel che è stato l'operazione sempre nell'inizio del 37 contro Bukhari Stalin si è presentato al comitato centrale dicendo Bukhari è colpevole di essere un controrevoluzionario che cosa scegliamo che lo arrestiamo e lo passiamo subito alla GPU che significa fucilarlo prima possibilità seconda possibilità che non lo arrestiamo e lasciamo che la GPU continui il suo percorso per fare le verifiche terzo che lo mandiamo in esilio allora è chiaro che Stalin voleva la prima delle soluzioni però una parte del comitato centrale non sapendo cioè era Bukhari il figliolo prediletto del partito eccetera era stato alleato anche di Stalin per lungo periodo molti votano per la seconda votano per la seconda possibilità cioè che è quello e firmano la loro condanna a morte in realtà dietro Stalin voleva verificare quelli che capivano cosa si doveva fare e allora c'è la grande purga del 37 la grande purga del 37 è una purga così costruita c'è una dichiarazione in cui dice è necessario processare un top numero di persone di cui 76 mila devono essere condannate a morte un altro top un po' più superiore che devono essere mandati nei campi ora tutti i dati indicano che in realtà poi si è superato quasi raddoppiato questa cifra ma c'è un altro elemento è che questi obiettivi da raggiungere non di piano industriale ma di processi di fucilazione sono in qualche modo suddivisi per ogni provincia e regione cioè ogni GPU ogni locale GPU ha un un obiettivo da raggiungere e naturalmente qual è il modo migliore per far farsi bello di fronte ai poteri centrali superare l'obiettivo quindi Moshe Levin pubblica non una tabella ma una tabella che non è sua ma una tabella raccapricciante in realtà Moshe Levin riduce addirittura il numero dei morti complessivamente in realtà qui sono solo quelli passati sotto processo ma se voi vedete la curva dal 21 al 52 complessivamente sono 800.000 quindi passati per le armi e 2.600.000 mandati nei campi in tutto sono 4 milioni le persone condannate queste sono solo le morti dirette dei processi non è tutto l'insieme della situazione voi vedete che c'è in alcuni anni all'inizio ne sono anche nel 21 9.000 condanna a morte ma nel 21 siamo ancora in guerra civile alla fine della guerra civile poi scende sale a 20 10.000 nel 30 e nel 31 condanna a morte evidentemente in relazione alla collettivizzazione delle campagne suppongo e poi però raggiunge nel 37 la grande purga 353.000 condanna a morte e l'anno successivo 328.000 ora come si faccia capite che questa società poi peraltro non è immobile si muove anche perché ogni nuova purga quelli che erano sotto nell'amministrazione statale salgono su di un grado però io mi chiedo ma come era la psicologia in realtà è più complesso perché nello stesso tempo c'era una specie di convinzione c'era anche una specie di entusiasmo nella costruzione del socialismo senza il quale non è spiegabile tutti questi avvenimenti diciamo c'era anche quindi lo staccano tutte quelle formule diciamo una partecipazione era popolare Stalin mica non era però vi rendete cosa c'entra col socialismo tutto questo solo questo piccolo problema non secondario però evidentemente per noi ovviamente i compagni una serie di compagni dal PC ad altri PC quello attuale per non parlare di Rizzo pensano che fucilassero dei contro rivoluzionari effettivamente ma in questo modo è andato distrutto come ho letto all'inizio esattamente quel partito che conosceva quel che era avvenuto è chiaro che quel gruppo dirigente che aveva fatto la rivoluzione quei quadri in parte già morti nella guerra civile non poteva essere il soggetto che gestisse fino in fondo quella che era a questo punto la dittatura burocratica stalinista e i suoi percorsi ci sarebbero 50.000 altre cose ma qui mi fermo per quanto riguarda questo aspetto e vengo no c'è un'altra cosa invece questo devo fare questa citazione perché in realtà in realtà eh merda in realtà io non lo trovo adesso naturalmente quindi non la faccio perché non mi ricordo no in realtà lo dico a voce non è lo stalinismo non è stato drammatico solo per quel che per quel che ha fatto in Russia quando uso la parola stalinismo non è solo stalin è questo sistema cioè ha preso il nome ovviamente dato il potere ma che quel modo di pensare e di agire ha interagito su tutto lo scacchiere della rivoluzione mondiale ha formato e forgiato militanti io dico quasi questo che il peggior crimine cioè oltre a questi crimini il crimine dello stalinismo è che tu hai avuto migliaia e migliaia di quadri generosi rivoluzionari che hanno creduto di fare la rivoluzione agendo in quel modo lì compreso di andare ad ammazzare compreso di fucilare André Unain e gli anarchici in Spagna e se c'è qualcuno diciamo se il marxismo non è e l'idea di socialismo non è completamente discreditata e anche perché una serie di correnti noi la corrente trotskista diciamo ma la corrente anarchica altre correnti del comunismo radicale hanno denunciato questo non hanno aspettato il 56 compreso il manifesto cioè il manifesto giornale diciamo che hanno scoperto la Rossan degli altri hanno scoperto nel 56 quello che era successo e pretendono anche qui che sono i primi solo loro l'hanno capito per primo almeno all'inizio adesso gli è sempre un po' più difficile poi alcuni loro anche non peraltro no troppe cose ho letto troppe cose nella notte mi 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 fermo qui e vengo all'ultima parte diciamo così no ancora una cosa invece sì questa va fatta questa è ma che hanno sbagliato qualcosa i bolcevichi sì sì è chiaro leggetevi il libro di Mandel che fa non è che sono cioè è falso l'idea che lo stalinismo derivi dal leninismo è una stupidaggine tra l'altro se fosse solo così sarebbe facile perché dice vabbè abbandoni quella cosa lì mentre invece quel che è avvenuto è in relazione a movimenti più profondi della società la retratezza la guerra che c'è stata la divisione del lavoro l'immanenza della burocratizzazione in qualsiasi processo compreso nelle nostre organizzazioni l'avete visto nei sindacati e dappertutto è una cosa che può essere combattuta soltanto avendo consapevolezza e attivando ogni volta un processo di partecipazione e di discussione da questo punto le parole che non vado a direggervi se no non arrivo mai al fondo della Luxemburg in cui dice c'è anche molti errori significativi in quel testo ma la Luxemburg dice parlando dell'assemblea costituente dice l'assemblea costituente posso capire come dice Trotsky che andava chiusa perché rappresentava una Russia che non esisteva più dopo la rivoluzione ma com'è il problema di far partecipare non solo attraverso i Soviet che peraltro conoscevano un'involuzione e anche gli stavano mettendo la direzione dall'altro ma fate partecipare l'insieme della popolazione alla vita politica e civile se non c'è la partecipazione la libertà la piena libertà di espressione l'attivizzazione delle masse come potete pensare di risolvere i problemi della costruzione del socialismo in una società di transizione che sono così complessi non ci sono ricette scritte peraltro non c'è l'osteria dell'avvenire in cui ci sono le ricette belle e pronte bisognerà andare avanti anche con un certo pragmatismo attentoni e questo lo puoi verificare solo se il proletariato resta attivo partecipe se no inevitabilmente il partito si sostituisce ai Soviet nel partito il comitato centrale si sostituisce al partito e alla fine l'ufficio politico e l'orburo si sostituiscono al comitato centrale e infine uno decide tutto quanto la scriveva nel 18 fa piuttosto impressione perché è avvenuto proprio questo tipo di cosa qui ma il concetto non è solo descrivere questa cosa è il nucleo radicale e serio della posizione alla Luxemburg è di dire solo una società viva e attiva che discute che partecipa crea le condizioni di mobilitazione delle masse e quindi crea le condizioni di possibile affrontare i compiti della società di transizione questo è l'elemento e per questo gli errori compiuti dai bolshevichi nel 21 e in quegli anni lì tra l'altro quegli anni lì le loro teorie politiche un po' di tutte sono le peggiori Trotsky dal punto di vista teorico ha dato il peggio di sé tra il 20 e il 21 sostanzialmente ma anche Lenin non ha non ha non ha scherzato diciamo così e poi e poi è la decisione fatale in qualche modo nel 21 del proibire cioè c'erano ancora addirittura finita la guerra civile si poteva anche pensare di rianimare certi soviet certi consigli di rintegrare gli anarchici o altri che erano dalla parte della rivoluzione che avevano combattuto anche e invece no il partito unico e poi successivamente il partito unico il divieto delle frazioni che alla fine sarà anche la morte dell'opposizione sinistra perché sarà quello che impedirà in realtà una battaglia in quel contesto che ho descritto prima delle masse demoralizzate e tutto quanto e Trotsky ci metterà un po' di tempo prima di impiegare bisognerà arrivare al programma di transizione in cui lui finalmente scriverà saranno le masse a decidere quali sono i partiti sovietici cioè la libertà e il pluripartitismo 38 soltanto è chiaro lui magari ci è arrivato prima ma era molto ovviamente non poteva essere non molto in difficoltà che è un problema centrale questa cosa qui perché dice sempre la lusseru volcevi che state facendo un grande errore la dittatura del proletariato che cosa significa è la democrazia socialista poi la quarta ha fatto trent'anni fa un testo che si chiama dittatura del proletariato e democrazia socialista per chi non l'avesse eletto ma la dittatura del proletariato significa l'egemonia di una classe sull'altra e nella fase di lotte di rivoluzione anche con mezzi repressivi evidentemente per poter vincere ma è esattamente una democrazia superiore anche a quella borghese è una dittatura dal punto di vista del dominio di una classe sull'altra ma non una dittatura politica la dittatura del proletariato anzi significa il massimo di partecipazione e di democrazia democrazia proletaria è giusto è giusto di democrazia e di partecipazione e quindi noi abbiamo il diritto di riesaminare la storia quelli che mi dicono eh ma è facile adesso col senno del poi certo col senno del poi nessuno sa cosa avremmo fatto io non so se sarei stato negli anni 30 una vittima o un carnefice o probabilmente prima uno e poi l'altro come è capitato tantissimo come è capitato a tantissimi ma col senno del poi certo la storia si esamina col senno del poi ma che cos'è il programma in fondo di un'organizzazione politica rivoluzionaria è l'esame dei fatti storici è la verifica degli avvenimenti è la verifica anche di come certe scelte hanno determinato certi fatti oppure altri fatti è la riconquista esattamente di una concezione di una di una ridefinizione programmatica che è permanente anche questo che non può che essere permanente noi non buttiamo via noi abbiamo criticato molto anche negli anni settanta le forze dell'estrema sinistra le forze dell'estrema alcune forze dell'estrema sinistra perché non valorizzavano i consigli i consigli e noi avevamo nella storia italiana oltretutto l'esperienza che tu hai richiamato 19-20 ma anche quella del secondo dopoguerra e poi quella straordinaria degli anni settanta non erano i soviet erano strutture intermedie non c'era una situazione rivoluzionaria però diciamo c'era una volontà di partecipazione il controllo operaio di non pagare i costi tutta una serie di cose che una direzione capace avrebbe potuto portare più avanti il processo e quindi anche creare le condizioni di una condizione di crisi rivoluzionaria no invece è stato fatto qualcos'altro vi dico un nome così capite subito bene la cosa EUR politica dell'EUR che è la subordinazione degli interessi dei lavoratori agli interessi di quello che il PC chiamava ecoprofitto per usare questa espressione qui e c'è anche in questa cosa qui diciamo c'è stata allora una incomprensione grande anche del ruolo dello Stato io mi sono riletto anche in una di queste notti l'articolo di Ben Saeed sul primo congresso di lotta continua e poi Critique Ministre ha fatto questo numero speciale che si chiama la strategia rivoluzionaria in Europa Occidentale del 1976 in cui leggete Magri sembra un rivoluzionario cioè Magri che è l'unico più intelligente di tutti più intelligente però dentro una concezione direi di conquista del potere per via osmotica no? e lì sono le parole è il concetto di Gramsci che viene utilizzato e che anche adesso la sinistra utilizza erroneamente secondo me il concetto della guerra di posizione della conquista dell'egemonia la guerra di posizione è ovviamente necessaria per conquistare settori nuovi di proletariato o un processo per costruire un'egemonia sulla società per far sorgere degli organi di autopotere della classe operaia e quindi per creare la legittimità di un nuovo ordine costituzionale rispetto al vecchio ordine costituzionale ma andare infatti in questo della lunga intervista a cui poi gli viene viene fatta dice elenca le condizioni di una situazione rivoluzionaria quindi richiamando Lenin quelli dal basso che non vogliono più non accettano più di stare quelli dall'alto che possono più governare come prima ma dice perché sia veramente rivoluzionaria occorre che ci sia un cambio di legittimità cioè ci sia il venir meno della legittimità degli organi democratici borghese del Parlamento e cresca la legittimità degli organi del potere popolare come una struttura democratica più avanzata che le masse molto più utilmente possono utilizzare per costruire il proprio futuro e si rifletteva allora su queste grandi cose avendo non solo la Francia del 36 o la Spagna ma avendo anche il Cile avendo il Portogallo avendo il Portogallo oggi quella riflessione strategica non c'è più un po' di riflessione strategica c'è stata all'inizio del nuovo secolo con il movimento alter mondialista con le teorie di 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 tre teorie in Italia sostanzialmente per certi versi anche collegati tra loro le teorie di Negri sull'impero e quindi la moltitudine al posto della classe lavoratrice un potere diffuso anche lì alla fine viene fuori una concezione in cui esclude come era già escritto che tu puoi avere tutti questi percorsi progressivi di costruzione della forza del movimento dei lavoratori ma a un certo punto si ergerà una cosa in leviatà cioè lo stato borghese lo stato borghese è in ultima analisi l'espressione del dominio di una classe credo Napoleone dicesse con le baionette si può fare tutto meno che sedercici sopra voleva significare che occorre anche l'egemonia l'idologia però è anche vero che le baionette in ultima analisi ci sono e servono esattamente per intervenire e spezzare in Catalogna non sono ancora le baionette ma quasi la guardia civile è arrivata lì cioè lo stato mi pare che l'hai scritto in una cosa francese lo stato non è controllato dalla Generalitat lo stato resta quello nazionale questo quello franchismo con tutte quella strumentazione politica repressiva che tu hai richiamato e tu ce l'avrai in tutte le società perché anche la rivoluzione arabe per esempio hanno buttato giù la dittatura a Bubarat ma perché a un certo punto la forza militare ha scelto che era meglio sbrogliarsi su questo ma poi quella stessa forza militare ha costruito le condizioni per mantenere lo lo status quo quindi la questione dello stato resta fondamentale perché alla fin fine è diciamo lo stato è un gruppo di uomini armati dopodiché è evidente che non è solo questo e lo vediamo tutti i giorni nella costruzione dell'egemonia del consenso è assolutamente formidabile oggi è quasi a zero la discussione strategica possiamo dirla così in realtà la Grecia lo riapriva in una combinazione per altri versi particolarmente complessa perché in Grecia riapriva il problema di come in Grecia contrasto le politiche dell'Unione Europea e quindi c'era una dimensione internazionale ma l'errore che molti anche compiono è che non è che c'era la Grecia udita la borghesia greca ha sostenuto le politiche della Troica perché ne trae vantaggio se loro avessero applicato la decisione del referendum dicendo no e nazionalizzando le banche è chiaro che si sarebbero trovati di fronte la borghesia greca in primo luogo aiutata dagli altri ma la borghesia greca e compreso la struttura militare greca certo che peraltro era è inzuppata come il marzapane di fascisti e nazisti addirittura quindi effettivamente il compito era immenso però i compagni della sinistra europea e i dirigenti di rifondazione ci hanno detto no va bene va bene così va bene così un cavolo va bene così perché oggi la Grecia è in qualche modo all'avanguardia di una non solo in prima fila nell'accordo con la Nato di respingere i migranti eccetera ma nell'accordo con Israele e quindi diciamo così attraverso quello rischio ci hanno spiegato anche i compagni che possa tornare anche Israele entra in un'alleanza con l'Europa a Tukur potete immaginare in funzione di che cosa eh in funzione di che cosa quindi la Grecia cioè quello che stiamo discutendo non è vero che diciamo non si pongono più i problemi rivoluzionari si pongono i problemi della controrivoluzione della reazione e i problemi di come o sfrutti le situazioni positive oppure che era quella che apriva una nuova situazione in Grecia oppure il ritorno indietro per questo sosteniamo oggi la Catalogna non solo perché Andrea Eucola e i suoi compagni ci sono simpatici non solo perché la Catalogna ci piace tanto non solo perché tanto vanno a Barcellona per fare la movida diciamo non solo diciamo per tutte queste cose belle diciamo di vivere ci è stato ricordato anche è giusto vivere ma anche perché in qualche modo la Catalogna è l'espressione è una forma con cui si esprise la crisi europea ma pensate un attimo la crisi si esprime con la Brexit completamente giammanizzata da forze reazionarie e di destra con uno spirito reazionario la Catalogna si esprime come rottura della Costituzione della transizione in una situazione in cui c'è una mobilitazione di massa in una situazione sostanzialmente in cui seppur non dispiegata l'idea di spiegare anche una mobilitazione sociale e di unità con le classi con le altre classi operai nello Stato spagnolo non è una cosa impossibile è una cosa su cui credo che i compagni in tutto lo Stato spagnolo stanno lavorando e su cui noi dobbiamo costruire la solidarietà leggetevi sia la dichiarazione loro dei catalani i nostri sia la dichiarazione del 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 di anticapitalista dello Stato spagnolo vedrete che non sono taciute tutte le difficoltà anzi il compagno Manolo a Lisbonne ha usato queste parole di tutti gli scenari possibili di la crisi questo è lo scenario più difficile lo scenario più difficile nel senso che il gruppo dirigente piccolo borghese è andato avanti ma ha avuto un po' paura anche compresa della mobilitazione delle masse e si è fatto delle illusioni probabilmente sull'Europa come se le erano fatte Tsipras e Varoufakis che avevano creduto di poter trovare un accordo con la borghesia europea in una ristrutturazione del debito peraltro aveva addirittura una banca che gliel'aveva fatto una banca francese che gliel'aveva fatta invece si sono trovati il muro di fronte e così probabilmente quel pezzo di borghesia catalana sperava di comincere tutto il resto della borghesia e di trovare orecchie positive a livello d'Europova invece le cose sono andate diversamente perché quel che avviene in Europa non è soltanto non potete considerare soltanto gli elementi economici ma c'è un disegno politico c'è l'azione politica delle borghesia che vuole che sa che c'è la crisi non sa bene che prova a ridisegnare l'Europa a due velocità in un certo modo ma che per poterlo fare con speranze di successo per poter reggere la concorrenza internazionale per poter tenere sotto controllo le masse esattamente deve avvenire senza mobilitazioni sociali questa è la chiave di volta di tutto per questo per questo anche noi in questi mesi solo per fare a tutti quelli della sinistra che correvano a tutte le parti facciamo l'alleanza facciamo deve esprimersi la sinistra benissimo ottima idea poi certo che se vuoi fare la sinistra con quelli che hanno gestito per vent'anni l'austerità ma che sinistra è quelli che hanno bombardato Belgrado quelli che hanno votato la legge Fornero l'elenco è piuttosto piuttosto lungo che all'improvviso si sono accorti quando sono stati estromessi da Renzi che qualcosa non andava ma è un incubo questo listone che si preannuncia perché diciamo così poi domani vedremo come il compagno Ferrero e la riformazione che cerca di vincolarsi come ne 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 usciranno ma non è questo diciamo in questo momento mi interessa lo dico solo perché dover raccontare pure questa situazione ai compagni francesi dello stato spagnolo eccetera era da mettersi le mani nei capelli diciamo che in Italia che è stato il punto più alto della mobilitazione sociale adesso siamo ridotti in questa situazione politica qui però il problema è che questa sinistra dovrebbe in primo luogo rapportarsi con le capacità provare a suscitare la mobilitazione aiutare i lavoratori a tornare protagonisti perché se no non c'è partita politica che tenga la partita politica è quale delle tre destre vince se vince il centro-destra centro-destra la destra se vince il PD o se vince il Movimento 5 Stelle e non è la soluzione non può avvenire ovviamente è una cosa positiva ci fosse una bella sinistra alternativa che ottiene un buon risultato elettorale ok ma alla fin fine il rapporto di forza sta dentro la società se non si smuove questo rapporto di forza ogni progetto sarà a breve termine se la centralità non è in quella direzione lì questo è il senso anche del lavoro anche sindacale politico che che diciamo che la nostra organizzazione vuole fare e anche nella sua dimensione europea nel suo progetto e nella sua corrispondenza europea per questo ho finito veramente io vi proporrei di noi abbiamo alcuni passaggi anche di ulteriore riflessione politica parteciperemo al congresso mondiale della quarta che ci sarà in febbraio facciamo all'inizio di dicembre dall'1 al 3 dicembre a a Chianciano tre giorni di conferenza di seminario sui documenti sui temi che sono ve li dico sostanzialmente il tema dell'analisi della situazione mondiale l'analisi delle resistenze sociali che ci sono il tema dell'ecosocialismo come un elemento programmatico fondamentale e e quindi correlato a questo sui compiti anche che che abbiamo di fronte abbiamo già fatto un lavoro sul programma un anno fa abbiamo attivato anche una commissione che sta lavorando sull'ecosocialismo che l'avevamo in programma da tempo che non eravamo ancora riusciti a realizzare siamo molti indietro ancora tantissime cose però un lavoro lo stiamo facendo e a conclusione di tutto questo dice adesso fa lo spot propagandistico ok va bene il compagno Cossutta diceva compagni al lavoro e alla lotta io mi non lo dico non lo dico anche perché non è stato il mio maestro Cossutta e quindi no dice invece un'altra cosa in fondo tutta questa cosa qui di cui abbiamo parlato che cosa è necessario anche non mi ricordo più stamattina ha usato il la la parabola diciamo dell'ostetrica per fare c'è il bimbo lo sai in realtà Trotsky usa anche un'altra formula della rivoluzione russa se non vado errato usa la formula del cilindro a vapore senza il vapore non va avanti la rivoluzione cioè senza le masse però il cilindro è anche quello che permette di trasformare questo movimento e questa forza delle masse in scelta politica cioè non è pensabile che la mobilitazione sociale di per se stessa risolva il problema della trasformazione occorre anche il soggetto politico un soggetto politico che non sa tutto esattamente un soggetto politico che aiuta le masse a costruire la propria auto-organizzazione e che però diciamo ha una visione complessiva della società del rapporto tra le classi e che nella costituzione dei vari passaggi politici della lotta di classe individua anche e prova a individuare quali sono le scelte più giuste se provare a fare una determinata magari riflettendo anche sugli errori è stato ricordato quindi non cambia anche idea la finalità è una sola la finalità è abbattere lo stato borghese la società borghese perché questo è l'obiettivo attraverso l'azione delle masse che solo loro possono essere artefici del loro successo ma noi facciamo un buon servizio alle masse se costruiamo una buona organizzazione politica un buon partito perché sarà utile nei momenti decisivi dello scontro di classe grazie